Sono iniziati nei locali della Biblioteca della Regione Piemonte di Via Confienza a Torino gli incontri del Caffè Letterario, occasioni per conoscere opere di autori ed editori piemontesi che proseguiranno ogni giovedì alle 15.30 fino al 18 dicembre. Durante il primo appuntamento è stato presentato il libro Solo il mio silenzio di Pina Ligas. Insieme all'autrice era presente anche l'editore Pietro Pintore.